Una passeggiata mano nella mano, poche centinaia di metri in un luogo molto romantico come l'Argine, maestro delle fiume Pò di Casal Maggiore, dove sorge una delle anse più belle delle fiume. Ma la loro colpa, per il capanello di ragazzi che si trovava sulla loro strada, per puro caso, era di essere entrambi uomini. Così il tardo pomeriggio di sabato 22 aprile è stato di paura, anziché di serenità e romanticismo, per due ragazzi di 30 anni del posto. Quando hanno incontrato il gruppo di una decina di ragazzi, con anche due ragazze, e la di loro era addirittura minorenne, il che rende ancora più inquietante l'episodio, i due hanno iniziato a ricevere insulti di natura omofoba, anche molto pesanti, e in aggiunta pure minacce di morte. Se non ve ne andate, vi ammazziamo. Uno dei due trentenni si è sentito male ed ha accusato un mancamento, l'altro è riuscito a trascinarlo via e così la passeggiata romantica si è interrotta bruscamente per evitare ulteriori problemi. Ma poteva anche finire peggio, perché due degli aggressori abbandonando il capanello, anziché limitarsi all'insulto, hanno deciso di seguirli minacciando un vero e proprio pestaggio. Per fortuna uno dei due fidanzati, rimasto freddo, ha subito contattato i carabiniere e quando gli aggressori hanno avuto sentore di questa mossa hanno preferito desistere per paura evidentemente di essere colti in flagranza di reato dagli uomini dell'arma o comunque di essere identificati. I militari così non hanno potuto fare altro che raccogliere la denuncia. La vicenda non era ancora emersa su suggerimento degli avvocati, dei due giovani, entrambi legati al circolo arcighei di Cremona, che assieme agli inquirenti avevano loro sconsigliato di rendere pubblica la notizia. Alla fine si è trovato una sorta di compromesso offrendo la possibilità di parlare della vicenda per sensibilizzare sul tema dell'omofobia ma senza diffondere le generalità dei giovani aggrediti.